Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di quelli che non hanno ancora un nome. Quello di oggi sarà un porotalk, ovvero discuteremo di un singolo argomento che, secondo me, vale la pena approfondire, il tutto con la mia voce accompagnata da immagini a caso. Un format ricchissimo e al 100% poraccio. L'argomento spinoso di cui vorrei trattare oggi e che spesso esce fuori nei vostri commenti è il seguente. Ma quale sarà il nome della prossima console Nintendo? Ma non è che dietro la scelta del nome c'è il rischio di ricadere negli stessi errori fatti con Wii U? Perché, come la storia ci insegna, un successo di una console non garantisce automaticamente che anche il suo successore vada alla grande. Quindi, come al solito, vi aspetto nei commenti per sapere come vi immaginate il futuro delle console Nintendo. Però, come al solito, prima di tutto vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, altrimenti, se vi sentite poracci al 100%, potete abbonarvi qui o anche sul Porion. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per come la vedo io ci sono tre diverse opzioni per quanto riguarda il nome della prossima console Nintendo. La grande N può decidere di andare sul sicuro, altrimenti di proporre qualcosa di nostalgico, oppure di andare all-in con qualcosa di imprevedibile. E se ci pensate, il nome direbbe anche molto sull'entità dell'hardware e la sua eventuale continuità con Nintendo Switch. La prima ipotesi è che la prossima console Nintendo si omologhi un po' a quella che è la norma dell'industria, e che Nintendo proponga semplicemente un upgrade numerico, passando a un banale, quanto chiaro, Switch 2. Non c'è soluzione migliore per comunicare il salto generazionale, se non quella di aggiungere un semplice numero a un brand ormai consolidato. Si garantisce così la persistenza di un marchio forte per il prodotto, ma allo stesso tempo si comunica che c'è qualcosa di nuovo. Le generazioni numeriche funzionano ovunque e i risultati migliori si ottengono sempre quando si tiene la creatività a bada. L'esempio di Sony è il primo che viene in mente. Dopo aver creato una console in grado di diventare sinonimo di videogioco praticamente in tutto il mondo, le è bastato creare una serie numerica per far sì che il suo pubblico non si allontanasse mai da quell'idea di gaming, anche quando poi le generazioni non sono partite proprio col piede giusto. Questo le ha consentito poi di abbinare nomi più sperimentali ad accessori e a console portatili, come a dire, fa tutto parte dell'ecosistema PlayStation, ma non si tratta dell'attrazione principale. Allo stesso modo ho sempre trovato un po' confusionario lo stratagemma adottato da Microsoft con Xbox, che sia con la 360 che con la One ha cercato di dare alle sue console un nome in grado di comunicare pienezza ed esclusività. Si è trattata però, secondo me, di un'arma un po' a doppio taglio, che poi ha costretto passare a una generazione dal nome tanto incomprensibile quanto impronunciabile, che a sua volta crea anche confusione con la One X e la One S. Per Nintendo, nell'ottica di voler garantire la retrocompatibilità con Nintendo Switch, Switch 2 sarebbe il nome perfetto nella sua banalità. Parliamo ormai da anni di come l'intenzione di Nintendo sia quella di non perdersi per strada gli oltre 100 milioni di utenti che sono entrati a far parte dell'ecosistema Switch, e il puntare tutto sul sistema di Nintendo Account sembra indicare proprio la voglia e quasi la necessità di proporre un hardware retrocompatibile. Il nome Nintendo Switch 2 comunicherebbe in modo efficace sia la natura del nuovo hardware sia la possibilità di continuare a utilizzare i software precedentemente acquistati. C'è poi però la scelta nostalgica che, nel suo essere molto rischiosa e creativa allo stesso tempo, sarebbe in realtà un'operazione Nintendo al 100%. È un po' di tempo infatti che si ragiona sulla possibilità che in realtà il nuovo hardware possa chiamarsi Super Nintendo Switch. Ve lo dico, questa sarebbe anche la soluzione che da appassionato preferirei, ma andiamo con ordine. Da dove si origina questo rumor? Dal fatto che nei trailer di due titoli per Nintendo Switch sono stati avvistati dei prompt dei comandi che ricalcano l'iconica colorazione del controller Super Nintendo e del logo SNES, almeno come era in Europa e in Giappone. Questa teoria è stata ulteriormente avvalorata dal fatto che questo color coding è stato riproposto anche in dei titoli di terze parti e quindi c'è la possibilità che questi giochi siano stati creati con in mente già la prossima console, in quanto titoli cross-generazionali e retrocompatibili. La prossima console rappresenterebbe una sorta di revival del salto generazionale che c'è stato tra NES e SNES. Da qui l'idea di ricalcare il passaggio tramite l'adozione del Super. Questo nome sarebbe geniale. Non solo Super è un termine legato strettamente alla storia degli hardware Nintendo, ma anche alla sua mascotte principale. E inoltre è una parola che rimanda con estrema immediatezza al concetto di novità, miglioramento e appunto superamento. Ma c'è un grosso dubbio che attanaglia gli appassionati. Non è che con un nome così simile alla prima generazione potrebbe creare confusione esattamente come accaduto tra Wii e Wii U? Ve lo dico, secondo me questo non sarebbe il caso. Qualche anno fa ho pubblicato un video sui motivi del fallimento di Wii U che vi consiglio di recuperare. Se non fosse per la mia cadenza insopportabile, si tratta di un'analisi tutto sommato valida e molto attuale. Ve lo riassumo al volo. Uno dei tanti motivi dell'insuccesso di questa console è stato sicuramente quello di averla presentata con un nome troppo simile al suo predecessore e alla sua linea gigantesca di accessori. Nel momento in cui poi, durante la presentazione della console, fu mostrato unicamente il paddone, si generò una confusione assurda. Tanto che anche molti appassionati, solitamente attenti alle notizie di settore, non avevano ben capito in cosa consistesse il progetto Wii U. Ma in realtà il nome era solo uno dei numerosi problemi di un hardware che si affacciava sul mercato nel peggiore dei modi possibili. Non solo l'entusiasmo attorno al brand Wii si era totalmente spento nell'arco di una sola generazione, ma inoltre Nintendo non riuscì mai a pubblicizzare correttamente una console sì dal grande potenziale, ma a cui mancava dietro un'idea concreta di marketing. Aggiungeteci pure l'assenza di terze parti, la concorrenza quasi diretta della line-up 3DS, una tecnologia intrigante ma datata già all'uscita e piena di limitazioni, ed ecco che la rovinosa caduta di Wii U assume tutta un'altra entità. Il nome magari è stato lo scivolone iniziale, ma il problema è che il progetto si affacciava su un baratro nero di scelte sbagliate. Switch è invece al punto massimo di popolarità. La console continua a vendere, gli utenti sono attivi e soprattutto acquistano i giochi. E poi Nintendo è riuscita a risollevarsi anche grazie a un approccio al marketing completamente diverso, che sin da prima della commercializzazione della console è riuscita a creare un interesse verso il nome e il concept di Switch, mantenendo alto l'hype dal primo reveal fino ad oggi. Aggiungo anche che tutte le revisioni di Switch per ora hanno aggiunto qualcosa in coda al nome. Switch Lite e Switch OLED, il prefisso Super romperebbe questo schema, indicando da subito qualcosa di diverso, simile ma migliore. Esattamente come accadeva con i new Nintendo 3DS. Altrimenti poracci c'è la via dell'imprevedibilità. Tutti sti discorsi potrebbero saltare in aria nel momento in cui Nintendo decidesse di cambiare completamente rotta, abbandonando il concetto di una console ibrida e con esso la retrocompatibilità con Switch, in favore di qualcosa di totalmente nuovo. La grande N è cintura nera di salti nel buio, spesso le cose vanno bene, altre volte proprio no. Però nel caso accadesse una cosa del genere potremmo tranquillamente dire addio a Switch e a tutto il suo branding in favore di qualcosa di imprevedibile. Capisco l'entusiasmo di portare avanti sempre e comunque la sperimentazione, ma sarà che ormai non c'ho più l'età di una volta, ma preferirei, di brutto, un approccio molto più tranquillo e pagato. Dai, squadra che vince non si cambia, vero? E questo vorrà c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo Poro Talk, bravi, e vi aspetto nei commenti per sapere come pensate che si chiamerà la prossima console Nintendo e se il rischio fallimento alla Wii U è dietro l'angolo. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli ma soprattutto nerdate duro, durissimo. Io sono il Poro2, Michele Super, ciao. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Is it unique? Unifying? Maybe even utopian? The answer is all...